Bene, allora penso che siamo come tempi che possiamo iniziare. Allora, grazie per essere venuti, quindi nonostante il poco preavviso, per noi questo rappresenta il primo evento che facciamo all'interno di questo progetto che si chiama Sulla disparità di genere nei corsi di Aura STEM e azioni di orientamento che stiamo proponendo come dipartimento però in stretta collaborazione con il settore orientamento di Ateneo di cui ci parlerà tra poco il professor Gerosa che è appunto delegato del rettore per l'orientamento tutorato e placement. Allora il corso di laurea in fisica, perché noi ci siamo interessati a questo ovviamente, perché il corso di laurea in fisica è uno di quei corsi di laurea in cui è presente una forte differenza di genere e quindi lo scopo del progetto è proprio quello di fare anche un'analisi dettagliata dell'andamento delle carriere universitarie per individuare poi in collaborazione con le scuole delle azioni di orientamento che siano più efficaci, ma non tanto per portare più donne quanto per rendere più consapevoli i ragazzi e le ragazze dei loro talenti e per orientarli proprio secondo le loro passioni e anche le loro capacità. e quindi cercando soprattutto di contrastare i stereotipi di genere che poi sono i maggiori responsabili per questa segregazione formativa che vediamo nei corsi di laurea e non solo di fisica. Allora con piacere seguo prima di tutto la parola al professor Seno che in quanto direttore ci dirà cosa farà. Beh ringrazio Ornella per questa attività, l'Ateneo tramite il professor Gerosa e anche la speaker di oggi. Sì è un tema non facile, vi do un numero, abbiamo appena fatto un concorso per una posizione di RTDB e abbiamo fatto massima pubblicità e come si fa ormai in tutti i concorsi appunto perché più ampio è il parterre dal quale pescare, più è probabile scegliere candidati migliori e applicabilmente che tra questi ci siano anche delle candidate. E su 26 candidati c'era una sola donna. Quindi arriviamo in questo momento di iniziare la tenure track diciamo che c'è già una disparità enorme, soprattutto io la vedo nel campo della fisica teorica insomma in tutto il grande gruppo di fisica teorica che abbiamo qui in dipartimento abbiamo diciamo permanente una persona sola, adesso abbiamo qualche RTDA e quindi sì non è qualcosa che va studiato, che va capito ma non di facilissima soluzione. io una volta pensavo che tra qualche anno invece con la giuria si dice che è una cosa veramente pesante che io credo sia forte ancora nella società. Faccio l'ultima osservazione. Io credo che adesso il punto dove si nota ancora la forte differenza è nel di solito è nei momenti di difficoltà che si può creare una disparità. Una volta c'erano i bambini e quindi erano le donne a stare a casa. Adesso i bambini non ce ne sono più, ci sono i vecchi. Ma se guardate attorno, quando ci sono dei problemi con degli anziani, se c'è un figlio o una figlia è la figlia che si porta a carico e questo si ripercuote poi su tutto. Insomma alla fine quello che succede all'interno dell'università non è nient'altro che una conseguenza. Quindi benvenuti queste iniziative e speriamo che il processo in qualche maniera possa accelerare. Grazie. Grazie molto. Ora chiedo al professor Geroso, delegato del rettore, di prendere la parola per raccontarci delle nuove iniziative che sono tante e che il suo ufficio sta organizzando per contrastare la segregazione formativa che però non è solo dei corsi di laurea scientifici ma anche umanistici. Certo, bene. Grazie Ornella. Buonasera a tutte e tutti. Io non voglio portare via tempo. Sicuramente le tematiche che ha introdotto anche il direttore sono delle tematiche importanti per il nostro Ateneo, per la nostra governance. Lo sono da sempre in realtà. Adesso chiaramente la rettrice Mapelli è insediata da poco più di un anno e quindi la mia delega ha questa, diciamo, anzianità. Ma qui abbiamo colleghe che si occupano e si sono occupate di queste tematiche da anni. Quindi sicuramente questa è una tematica su cui il nostro Ateneo ha da sempre posto grande attenzione. Quello che mi piace sottolineare per cercare di farvi capire quello che stiamo cercando di fare, insomma, è innanzitutto che quello di cui si parlava e quello a cui accennava anche la professoressa Pantano rientra in una, come dire, in un'innovazione più generale dell'approccio all'orientamento in ingresso al nostro Ateneo, comunque al sistema universitario in generale. Quindi d'accordo con la rettrice Mapelli abbiamo anche identificato la figura di un advisor all'interno della delega che si occupa specificatamente dell'innovazione delle azioni di orientamento tutorato e placement, che è la professoressa Dare, che è una pedagogista, che vi saluta. Oggi non stava tanto bene, quindi ha deciso di non venire, ma insomma vi porto sicuramente i suoi saluti. E la visione che stiamo cercando di sviluppare insieme a lei è quella che, insomma, in letteratura molti chiamano l'orientamento educativo o l'orientamento formativo, adesso a seconda delle scuole di pensiero. Ma sono esattamente le cose che ricordava la professoressa Pantano, cioè mettere i giovani, le giovani in una condizione di maturare una scelta rispetto al proprio percorso formativo, che sia una scelta il più possibile consapevole. Consapevole vuol dire tante cose, vuol dire conoscere il mondo della formazione, vuol dire conoscere il mondo del lavoro, vuol dire conoscere le proprie attitudini, conoscere i propri talenti. Poi io su questa cosa dei talenti sono sempre un pochino, cioè non è che perché uno ha un talento deve per farsa fare quella roba lì, ok? Quindi conoscere i propri talenti, conoscere anche le proprie aspirazioni, però saper riconoscere magari che le proprie aspirazioni non sono i propri talenti, quindi capire che sfida è fare una scelta diversa e se uno la vuole fare è cogliere quella sfida, però l'importante è con consapevolezza. È chiaro che in questo la questione, permettetemi di chiamarla così per semplicità, la questione di genere si innesca perché ci sono tutta una serie di pregiudizi, ci sono tutta una serie di condizionamenti, di preconcetti, quindi magari ci sarebbe l'aspirazione, però forse abbiamo un programma famoso nazionale non è roba da donne, no? Che richiama un preconcetto che purtroppo è ancora forte. Quindi si innesca bene in sinergia con questa ottica di sviluppo dell'orientamento educativo lavorare su questa tematica e mi spiace che non ci sia qui Lorenza perché Lorenza a questo ha dedicato particolare energia, quindi quello che facciamo qui nasce da un'iniziativa di più di un anno fa per Scegli con noi dell'anno scorso, dove lei ha organizzato un piccolo seminario, eravamo online per ovvi motivi, ma insomma c'erano tante delle persone che sono qui stasera. E quindi cerchiamo di sviluppare e andare avanti su quest'onda. Da un punto di vista più politico, quello che stiamo cercando di proporre sono, che voglio sottolineare stasera, sono due cose. La prima, ed è parte degli obiettivi del progetto in cui questo seminario si innesta, è quello di cercare di mettere a sistema le tantissime iniziative che già ci sono a livello dei dipartimenti, dei corsi di studio su queste tematiche, soprattutto in area cosiddetta STEM, quindi i nostri dipartimenti di fisica, di matematica, i vari dipartimenti di ingegneria, di statistica. Chi mi sto dimenticando? Sicuramente qualcuno, ma insomma ci siamo intesi. Ognuno per la sua parte, ognuno per le proprie, diciamo, corsi di studio specifici, propongono tantissime attività o partecipano a programmi nazionali per far toccare con mano alle ragazze, alle bambine forse in alcuni casi, sarebbe proprio il caso di iniziare da lì probabilmente, che cos'è il mondo scientifico, che cos'è la programmazione, che cos'è la matematica, che cos'è la scienza. Quindi siamo davvero come Ateneo, dico, siamo già veramente molto attivi, però magari un dipartimento non sa cosa fa l'altro, il nostro ufficio centrale non sa cosa vengono, quali iniziative vengono fatte. Quindi uno degli obiettivi era anche cercare di vedere cosa si fa e cercare di metterlo a sistema. Poi Ornella chiaramente citava una prospettiva più ampia del progetto, quindi cominciare anche a valutare, capire, verificare l'impatto, misurare. Siamo tutti scienziati, siamo tutti in area scienziati e in particolare in area scientifica, quindi insomma ci capiamo di cosa stiamo parlando. Quindi questo è un primo obiettivo. Il secondo obiettivo è, se vogliamo fare sinergia tra quelle che noi chiamiamo le strutture periferiche, ovviamente dobbiamo fare sinergia con tutte le anime dell'Ateneo, quindi questa progettualità l'abbiamo condivisa anche con la nostra delegata, le pari opportunità, la professoressa Spolverato, che anche lei oggi non è riuscita a venire, però insomma ci siamo, so che vi siete sentite, io l'ho sentita ieri sera, insomma abbiamo fatto diverse riunioni su questo progetto, quindi cerchiamo di essere in sinergia, perché poi l'orientamento è una parte, poi insomma la questione di genere è una questione molto più ampia e la professoressa Spolverato è lì per quello, insomma. E cerchiamo di fare sinergia con gli uffici anche, che adesso faccio fatica a vederli, che ho dimenticato gli occhiali in macchina, ma mi pare che non siano arrivati, però insomma anche qui il coinvolgimento comunque c'è, quindi da una parte abbiamo l'ufficio, lo staff del public engagement, che in qualche modo sostiene l'attività della professoressa Spolverato, con cui abbiamo condiviso la progettualità, e dall'altra parte c'è l'ufficio con cui lavoro io, che è quello che si occupa di orientamento, quindi c'era la dottoressa Preciso che mi aveva detto che veniva, ma evidentemente so che aveva il bambino malato, sempre per tornare alle tematiche di prima, quindi evidentemente i nonni hanno detto picche, se Silvia non è qua, però anche come ufficio, questo è un altro motivo, l'ufficio segue tutta una serie di progettualità a nome dell'Ateneo, magari sulle STEM e magari i dipartimenti scientifici non lo sanno, allora noi ci siamo dati questa missione intanto, intanto di fare sinergia, di mettere a sistema e di legare le cose, e in questa visione poi nascono anche delle progettualità speciali, quindi ho scoperto insomma con piacere questa ospite e questa iniziativa, sono molto, ho letto il curriculum, sono molto curioso di ascoltare insomma, quindi però volevo cercare di darvi la visione del fatto che questo si innesta, oh eccole qui, benvenute, ci preoccupavamo che i nonni avessero dato forfè per i tolirsi, va bene, quindi stavo giustamente dicendo che uno degli obiettivi è metterci anche in sinergia con gli uffici che seguono queste tematiche. Bene, io scusate, ho questo brutto vizio che poi parlo, voglio dire due cose, poi parlo mezz'ora, quindi scusatemi, grazie alla nostra ospite, grazie al Dipartimento che ci ha, grazie a Ornella per aver tirato le fila, alle giovani collaboratrici, alcune delle quali siamo anche coinvolte in questa progettualità specifica, abbiamo giusto fatto un colloquio di bando l'altro giorno e quindi davvero grazie. Grazie per averci proprio introdotto tutto quello che si sta preparando su questo tema e quindi passiamo finalmente alla nostra ospite, quindi è un piacere per me, è veramente un grande piacere, introdurre la professoressa Vidotto che conosco dagli anni in cui è stata studentessa qui a Fisica, ci siamo conosciute, io ero giovane ricercatrice e lei era studentessa e entrambe siamo entrate a far parte del Comitato Pari Opportunità dell'Ateneo. Però da allora sono passati insomma tanti anni e attualmente Francesca è professoressa presso la Western University in Ontario e lei è stata assegnata la prestigiosa Canada Research Chair in riconoscimento dei suoi meriti di ricerca. Il suo principale ambito di ricerca riguarda la gravità quantistica, un campo in cui ha dato diversi contributi originali su riviste internazionali di alto impatto come Physical Review Letters, Journal for Cosmology and Astrophysics con più di 2000 citazioni. Oltre però alla ricerca nel campo della quantum gravity si è sempre occupata di filosofia della scienza da quando ci conoscevamo. Soprattutto uno dei temi che ha esplorato era proprio quello della parità di genere. Nella sua carriera ha fatto molti interventi in varie conferenze, molti su temi però che vanno dalla fisica matematica all'astrofisica e alla filosofia. È molto attiva anche nel campo della divulgazione scientifica con interventi regolari in interventi pubblici e in TEDx. Il suo impegno comunque è presente anche in piano didattico dove tiene corsi sia di fisica di base sia di fisica teorica avanzato. Inoltre negli ultimi anni ha organizzato un corso su donne e scienza in cui viene affrontato dal punto di vista storico e filosofico il tema della persistente assenza delle donne nel campo dello STEM. Ed è per questo che in questi ultimi anni noi ci sentiamo regolarmente con lunghi intervalli di tempo però ogni anno insomma ci sentiamo e quindi mi raccontava di questa cosa. Quindi volevo proprio che portasse questa sua esperienza a noi. E oggi Francesca ci parlerà di come le donne sono state tradizionalmente escluse dalla ricerca scientifica e come questa esclusione sia presente ancora oggi come anticipavano i miei colleghi. Ci illustrerà l'importanza e la necessità di un cambiamento e di come un potenziale aumento della diversità nella scienza può migliorare la ricerca e la stessa conoscenza. Grazie Francesca. Ornella mi ha fatto un regalo enorme invitandomi a dare un seminario qui. È stato grazie all'incontro con Ornella che ho trovato all'interno dell'università un luogo nel quale sviluppare il mio interesse e il mio attivismo anche per la questione delle donne e la scienza. Voglio ringraziare il professor Gerosa e voglio ringraziare il professor Seno per l'ospitalità e per l'introduzione. Come dicevo per me, qui Padova e il Comitato per l'Opportunità sono stati una grandissima scuola sia intellettuale che di vita e per me è un grande piacere di scoprire che adesso non c'è più solamente un comitato ma ci sono diversi centri. Voglio ringraziare Lorenzo D'Area e tutte le persone che si stanno impegnando con una moltiplicazione di iniziative che vanno adesso coordinate e speriamo diano frutto. È difficilissimo condensare tutte queste idee, le diverse idee che ci sono sulla questione delle donne e la scienza e anche le diverse questioni di cui io stessa mi sono occupata. Cercherò di guidarvi un po' in un percorso che spero vi stimoli delle domande che potremo discutere ulteriormente alla fine, magari insieme. Magari può essere solamente uno spunto per voi per andare a guardare e sviluppare un vostro percorso. Però voglio cominciare dal togliere dal campo alcuni pregiudizi e alcuni legati al nostro essere italiani e pensare sempre che siamo i peggiori, che le cose vanno male, eccetera, eccetera. Una delle prime cose che racconto ai miei studenti quando parlo di donne e scienza è la distribuzione dei ricercatori e delle donne ricercatrici nel mondo. Non vedete i dati degli Stati Uniti del Canada, perché questi sono i dati dell'UNESCO, gli Stati Uniti non li hanno forniti, ma posso dirvi che il colore dovrebbe essere un violetto simile a quello che vedete per la Francia, quindi tra il 0% e il 30%. Siamo sul 20% di ricercatori donne, sia nel Canada che negli Stati Uniti. Quindi, come vedete, questi paesi che sono considerati magari più avanzati o magari paesi anche che noi consideriamo più avanzati dal punto di vista delle politiche di genere, dal punto di vista dell'emancipazione delle donne, non sono per forza i paesi in cui ci sono poi più ricercatrici donne. Allora, come spiegare questa cosa? Nel caso dell'Italia, vedete, il colore è un po' più scuro, il che vuol dire che ci sono più ricercatrici donne che non in Francia, che non in altri paesi. Con mia grande sorpresa, per esempio, quando sono andata in Olanda, mi sono ritrovata a essere l'unica ricercatrice in un intero dipartimento di matematica di 60 persone, non c'era neanche un'altra studentessa, neanche un'altra dottoranda donna, se non le segretarie. Quindi, venendo dall'Italia, dove ci lamentiamo sempre, diciamo, accidenti, che situazione è terribile, si va in altri paesi e si scopre che la situazione è addirittura ancora peggio. Paesi nel quali ci sono un sacco di investimenti per la ricerca, come anche il Canada, dove sono adesso, sono paesi comunque in cui ci sono meno donne scienziate che da noi. Allora, quali sono le ragioni? Me lo sono chiesto, ci possono essere ragioni storiche, di tipo storico. Questa è Elena Cornaro Piscopia, che credo conosciate tutti se siete passati per il BO. So che adesso c'è anche un centro a Cornaro Piscopia qui all'università, proprio per i studi di genere. Abbiamo qui la prima laureata al mondo. Ci sono stati non solo modelli nel passato, ma ci sono anche modelli più recenti, a cui le donne, anche le donne della mia generazione, si sono ispirate, come Margherita Haack, come in generale per la scienza Rita Levin-Montalcini. Non sono mancate possibili figure di riferimento, anche se in realtà, secondo me, quello che conta di più sul fatto che ci siano più scienziati in Italia che in altri paesi è legato alla percezione della scienza nella società, ovvero pare scienza tradizionalmente nella nostra società non era poi alla fine la cosa più prestigiosa che uno poteva fare. Vengo da una famiglia di maestri, i miei nonni materni, sia mio nonno che mia nonna, erano maestri e c'era una chiara divisione dei compiti nella scuola di paese dove loro insegnavano. Mio nonno insegnava le cose importanti, mia nonna insegnava le cose meno importanti, ovvero mio nonno insegnava la poesia, la letteratura, la storia, la geografia, mia nonna insegnava la matematica. Quindi, di nuovo, il punto è che quello che conta è qual è il ruolo che la scienza ha all'interno di un dato contesto sociale e questo può cambiare la percezione della donna che fa matematica o che fa scienza o che fa ingegneria, può essere diversa secondo del contesto sociale, che dipende anche da paese a paese. Allora, qui ho disegnato un piccolo fumetto che riporta però delle conversazioni che ho avuto veramente con delle colleghe. nel primo, tutto bene, per esempio nel mio ambito di ricerca ho scoperto che c'erano tantissime donne che facevano gravità quantistica o che facevano matematica e che venivano dall'Iran ed era una cosa che mi stupiva. Allora ho chiesto, ma secondo voi come mai ci sono più donne fisiche teoriche in Iran che non in altri paesi. E la risposta che gli amici iraniani mi hanno dato è, ma fisica teorica, matematica sono cose che vanno bene per le donne perché non si usano i muscoli, è come fare poesia, è come fare arte, no? Come si fa anche matematica. Quindi, la matematica è un lavoro adatto da donne, l'ingegneria in quel caso lì no perché si costruiscono i ponti, quindi non è giusto. Liceversa, tantissime mie colleghe, ragazze con cui ho studiato hanno scelto invece di fare come mai fisica teorica, hanno magari deciso di fare fisica più sperimentale, di lavorare in laboratorio con l'idea che la fisica teorica era più una cosa da uomini che sono più adatti al pensiero astratto, mentre invece le donne essendo più pratiche possono essere brave in laboratorio, possono essere brave con gli strumenti scientifici. Quindi il punto che voglio fare semplicemente è che tutti questi discorsi hanno a che fare con la società in cui viviamo, con la famiglia da cui veniamo, dal contesto in cui siamo cresciuti e cambiano da paese a paese. Quindi non hanno nulla a che fare con una predisposizione degli uomini o delle donne a scegliere una certa direzione o a scegliere certe domande scientifiche da investigare o meno. Certo è importante avere un pool di donne, di studentesse con cui partire, però quello che è veramente pesante è il cosiddetto leaky pipe, il tubo che perde, cioè il fatto che si perdono donne via via che si sale nella carriera accademica. E non è assolutamente, qua ci sono un po' di dati, ma quello che voglio farvi notare è che se invece guardiamo il dato per le materie umanistiche, dove invece ci sono più donne che iniziano come studentesse che si matricolano nelle varie lauree, comunque il leaky pipe, il tubo che perde, è ancora più evidente. Quindi vuol dire che il problema è un problema del mondo del lavoro, è un problema di diritti nel contesto delle carriere e non è una questione di scelte dal punto di vista di di predisposizione, come dire, fisiologica verso certi problemi scientifici o altri. Quindi per me la questione è innanzitutto di chiarire il fatto che più che essere assenti le donne appunto scompaiono piano piano e diventano più che altro invisibili. Anche l'idea che le donne non ci siano o non ci siano state in passato è in qualche modo un'idea sbagliata, nel senso che le donne hanno da sempre fatto ricerca, hanno da sempre contribuito al sapere scientifico. Dicevamo prima l'Italia è un paese un po' particolare, è particolare per la sua storia perché fin dal rinascimento nelle corti italiane le donne avevano un incredibile ruolo, anche un incredibile potere, erano delle vere e proprie mecenate dell'arte e della cultura e degli scienziati, nel senso che attiravano nelle corti gli scienziati dell'epoca e a loro volta diventavano sapienti. Nel periodo rinascimentale si sviluppano i cosiddetti libri dei segreti. Le donne come come la Duchessa Sforza o le cortigiane veneziane scrivono dei libri su sull'alchimia e questi libri di fatto sono il l'equivalente della chimica del tempo. Quindi le corti, già nel rinascimento, donne che partecipano alla costruzione di sapere scientifico. Abbiamo poi nel Settecento, come sapete, la prima donna a diventare professoressa universitaria al mondo, che è Laura Bassi, una donna straordinaria perché a proposito della conciliazione tra ricerca e famiglia, ha avuto più di otto figli e evidentemente poteva permettersi anche molti aiutanti e molte balie. Però Laura Bassi, appunto, è un personaggio straordinario, è la persona che era una fisica, è la persona che ha portato in Italia i Principia di Newton, quindi è stata un po' l'equivalente di Madame du Châtelet in Francia, per noi in Italia. E anche in quel caso lì c'è un po' la continuazione della scienza delle corti, nel senso che Laura Bassi, nella sua casa, aveva il suo laboratorio sperimentale di fisica, dove venivano ricercatori da tutto il mondo per fare esperimenti, per vedere gli ultimi ritrovati della fisica dell'epoca. L'ultima immagine che vedete è una riproduzione in cera di un'altra grande italiana, in questo caso un anatomista. In questo caso quello che voglio illustrare è il fatto che le donne avevano accesso e producevano sapere, per esempio attraverso il lavoro artigianale. In questo caso, appunto, c'è la riproduzione in cera di parti anatomiche, quindi avevamo delle donne estremamente abili nella loro conoscenza del corpo umano. le migliori riproduzioni anatomiche venivano appunto da donne, come in questo caso. Qual è il problema? Che questo lavoro di tipo artigiano, in qualche modo, non veniva riconosciuto come scienza con la S maiuscola, no? Quindi, continuando su questo tema, c'è una questione di capire cosa consideriamo come scienza con la S maiuscola. Ci sono tutta una serie di scienze che sono state sviluppate dalle donne nella storia, dall'ostetricia alla nutrizione, alla botanica, all'ecologia, alla farmacologia, all'economia domestica e anche l'alchimia che citavo prima. L'alchimia come appunto precedente dello sviluppo poi della chimica. Tutte queste sono casi di quello che chiamo una scienza girocentrica, cioè sono ambiti in cui il sapere è stato sviluppato principalmente da donne, tradizionalmente, nella storia, e però all'inizio queste non venivano riconosciute come scienze, per l'appunto in quanto considerati arti femminili. E qui mi innesto con un altro pensiero. Questa è una citazione da un libro di alchimia del Cinquecento, che dice Questa è un'esortazione già all'epoca a fare attenzione al sapere che c'è per esempio nella cucina, o nella lavanderia, o in generale tutto il sapere sviluppato dalle donne. Un buon scienziato, questa è l'esortazione dell'alchimista all'epoca, un buon scienziato cerca il sapere dappertutto, incluso il sapere appunto delle donne. Quindi, il problema è soprattutto non tanto l'assenza delle donne storicamente nella scienza, ma piuttosto l'assenza, il problema di capire che cosa intendiamo come scienza, di cosa guardiamo come pratica scientifica. E su questo mi piace citare Margherita Ack, che qui dice in questo passaggio La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo, la Terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto. In una parola, Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede. In una parola, Eva rappresenta la curiosità scientifica contro l'accettazione passiva della fede. Quindi, c'è l'idea che... Quindi, se pensiamo che la scienza sia questa profonda curiosità umana, o meglio, il cercare di raffinare sempre di più gli strumenti con cui indaghiamo la natura e seguiamo questa nostra curiosità che è un segno profondo della nostra umanità. In questo senso, però, allora la scienza è un patrimonio universale che nasce con l'essere umano stesso. Se è vero che la curiosità è donna, allora la scienza è molto donna. Una lezione per la scienza di oggi. Ovviamente, questo è quello che impariamo dalla storia delle donne del passato, però c'è una questione aperta oggi su come mettere insieme saperi diversi, su come rapportarsi a saperi che non sono stati tradizionalmente considerati dalla scienza moderna. Penso, per esempio, a sapere tradizionale delle popolazioni indigene, eccetera. Quindi, dalla storia delle donne abbiamo un suggerimento sul fatto che dobbiamo essere aperti e forse dobbiamo seguire l'insegnamento dell'alchimista e guardare dappertutto dove possiamo trovare ispirazione, dove possiamo trovare nuove direzioni per sviluppare ulteriormente il sapere scientifico. L'altra lezione è quali possono essere le pratiche e i metodi di ricerca, anche a livello della didattica, che noi possiamo introdurre oggi per liberarci da aspetti indesiderabili della scienza che sono stati ereditati dal punto di vista, a causa della storia della scienza stessa. Quindi, ovviamente, se la scienza si è sviluppata in un contesto in cui c'era colonialismo, in cui c'era razzismo, in cui c'erano ovviamente disuguaglianze di genere, ma c'era omofobia, ma anche il mondo in cui viviamo oggi, un mondo di disuguaglianze economiche, come possiamo... Tutte queste cose, ovviamente, percolano all'interno del modo in cui noi facciamo scienza e dobbiamo chiederci quali possono essere i metodi per leggere nella scienza che facciamo dove queste cose hanno preso piede e come possiamo eliminarle per rendere la scienza più aperta e più inclusiva. Una delle cose importanti, tornando al discorso di prima, è il fatto che bisogna, innanzitutto, per guardare la scienza dal punto di vista di genere, dobbiamo renderci conto che quello che chiamiamo scienza può essere allargato a dei saperi che tradizionalmente non erano inclusi. E un'altra osservazione che voglio proporvi è il fatto che alcune delle qualità che noi pensiamo siano importanti per uno scienziato non sono necessariamente quelle che poi sono sono cruciali nel fare scienza o viceversa. In realtà, quando parliamo di qualità, parliamo di talenti, l'unica verità è che per la scienza servono tutti i talenti possibili, servono tutte le abilità, le virtù possibili. Però, lasciatemi fare un esempio. Per esempio, la pazienza non è qualcosa che associamo normalmente alla genialità. Quando pensiamo allo scienziato, c'è questa idea, questo stereotipo dello scienziato geniale e l'idea della genialità, dell'impulsività in qualche modo è contraria, è opposta all'idea della pazienza che è considerato più un attributo femminile. certamente viceversa se poi guardiamo quello che succede nel laboratorio anche oggi o anche semplicemente per risolvere un'equazione sia analiticamente con carta e penna oppure al computer, di pazienza ce ne vuole veramente, veramente tanta. In questa foto quello che vedete sono alcune suore si chiamano Emilia Ponzoni, Regina Colombo, Concetta Finardi e Luigia Panceri e il motivo per cui voglio esplicitamente dirvi i loro nomi è che queste donne fino a due o tre anni fa non erano conosciute, non se ne conoscevano i nomi eppure hanno catalogato la bellezza di 481 1215 stelle. Un contributo alla scienza enorme, non ne conoscevamo i nomi. Nel 1887 sono state distribuite 22.000 lastre fotografiche con l'avvento appunto della fotografia in astronomia e le donne hanno giocato un ruolo incredibile in quel contesto. Dicevamo queste donne che vedete nella foto erano suore della specula vaticana e analogamente in America ad Harvard c'era il cosiddetto Pickering Harem all'osservatorio di Harvard erano state assunte tutte donne forse per la loro pazienza c'è anche chi malignamente dice che costavano meno venivano pagate meno ma non erano meno precise nelle loro osservazioni e nella loro catalogazione di stelle. Da questo gruppo di donne sono usciti alcuni dei più bei risultati dell'astronomia moderna come la comprensione della composizione chimica delle stelle o nuovi metodi per misurare la distanza delle stelle e quindi capire quanto grande è il nostro universo. C'è un bellissimo libro di Davas O'Rell che vi consiglio proprio su di loro e parlando di libri relativamente famosi forse avete sentito anche parlare di Hidden Figures Figure Nascoste c'è stato anche dal libro è stato poi tratto un bellissimo film recentemente che parla appunto delle donne computer che la NASA impiegava per fare tutti i calcoli per le traiettorie necessarie a mandare missioni spaziali prima in orbita attorno alla Terra e poi le prime missioni che hanno portato l'uomo sulla Luna. Queste donne appunto erano considerate non veri scienziati erano considerate come delle macchine come un computer che semplicemente faceva i conti e in questo senso erano sì presenti ma non erano riconosciute erano come invisibili di nuovo l'idea della donna che può fare bene alcune mansioni per esempio può scrivere codice per i nuovi computer scrivere codice era considerato una mansione da donna perché insomma le donne sono brave con i linguaggi scrivere codici per i computer è semplicemente usare un altro linguaggio quindi tutta l'informatica moderna è nata con una grandissima presenza di donne se non che a un certo punto negli anni 80 si è cominciato a commercializzare il computer anche a livello domestico e quindi con la commercializzazione è arrivata la pubblicità che si indirizzava specificatamente a bambini maschi e non a bambine e l'altro effetto importante di nuovo è il fatto che saper lavorare con i computer è diventato estremamente remunerativo e come sappiamo oggi invece le donne sono pochissime nell'ambito dell'informatica e fanno molta fatica ad avere successo in quell'ambito quindi da una parte abbiamo la questione del 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 rendere del del rendere conto di questa presenza delle donne del riconoscere certe forme di 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 sviluppo di sapere scientifico che non sono tradizionalmente riconosciute ma anche un certo tipo di lavoro che non era associato allo scienziato e di nuovo su questo secondo me c'è una lezione importante per la scienza di oggi nella quale vogliamo tenere conto dei contributi di tutti appunto quando scriviamo un articolo oggi vogliamo tenere conto di chi ha contribuito magari scrivendo il codice con cui si sono prodotti i dati o che ha analizzato i dati vogliamo possibilmente includere persone che hanno fatto hanno costruito gli strumenti che noi abbiamo utilizzato vogliamo poter includere tutte le varie figure che hanno contribuito ad una certa scoperta e non solamente il capo che che ha che ha che ha che ha coordinato una certa scoperta quindi si tratta di sicuramente di una questione di equità si tratta avere più donne nella scienza è una questione di equità nel senso appunto di dare la possibilità a tutti quanti di poter seguire la carriera che desiderano e poter fare il tipo di ricerca che ritengono più interessante in in libertà però alla fine questo discorso dell'equità non può essere fatto da solo non può restare l'unico discorso che che di cui ci interessiamo c'è un aspetto di di qualità se veramente teniamo alla scienza se siamo innamorati della scienza come lo sono io come credo che lo siate anche voi il fatto di avere persone diverse e soprattutto donne che fanno scienza è qualcosa che permette effettivamente alla scienza di essere migliore le quote da da l'onda Schibinger le femministe hanno avuto la tendenza a fare una distinzione tra aumentare la partecipazione delle donne nella scienza e cambiare la conoscenza entrambi sono problemi istituzionali e intellettuali tali iniziative dovrebbero essere sforzi collaborativi che uniscono l'esperienza di scienziati e umanisti quindi la questione è una questione non solamente che deve essere legata a una discussione tra scienziati ma deve coinvolgere altre figure per esempio i filosofi e rendere visibili le donne e sollevare questioni riguardanti il genere si può fare anche senza il femminismo possiamo benissimo appunto parlare di equità possiamo fare in modo che dall'anno prossimo possiamo mettere una quota e l'anno prossimo avere obbligare tutti quanti ad avere il 50% di studentesse in ingegneria eccetera eccetera questo però non significa fare un'azione di tipo un'azione positiva di tipo femminista e infine quindi questo è un primo caveat che voglio sviluppare di cui voglio parlare e un altro caveat che voglio mettere davanti prima di discutere di altre questioni è quando parliamo di qualità della scienza quando parliamo del fatto che certe pratiche portano a una scienza che effettivamente che riconosciamo tutti come migliore bene è un fenomeno interessante che quando le intuizioni femministe vengono integrate in una scienza a volte vengono considerate semplicemente come buona scienza e forse lo sono semplicemente ciò però ha l'effetto di mantenere le cose etichettate come femministe sempre ai margini radicali per me è estremamente importante ricordare da dove è venuto il cambiamento da dove è venuta la spinta per il cambiamento alla fine di tutto sì vogliamo semplicemente una scienza migliore ma vogliamo anche riconoscere il percorso che è stato fatto e capire dove effettivamente la presenza delle donne è stata il motore del cambiamento così come la presenza di magari altri gruppi che sono stati storicamente marginalizzati della scienza e adesso sono più presenti può attivare questo cambiamento e va riconosciuto e questo va riconosciuto quando parliamo di 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 questo contributo delle donne alla scienza da una possiamo fare due tipi di discorsi diversi possiamo interessarci alla questione se esista un modo specifico delle donne quindi un modo femminile di conoscere e questo penso che sia interessante però è interessante nel momento in cui pensiamo alla scienza come fatta da persone una scienza come il un processo nel quale ognuno di noi porta tutto se stesso nel nella pratica scientifica e quindi esiste un modo femminile di fare scienza sì esiste un modo per esempio indiano di fare scienza invece che europeo esiste un modo di chi pratica l'islam di fare scienza sicuramente sì la risposta è sì nel senso che ognuno porta dentro di sé un un background diverso porta delle delle sorgenti diverse da cui attingere per la propria creatività e come dire delle lenti diverse con cui guardare il mondo e quindi vedere cose diverse quindi sicuramente sicuramente esiste un modo femminile di conoscere in questo senso e allo stesso tempo voglio anche rimarcare il fatto che non dobbiamo pensare a questo in un modo essenzialista nel senso che ognuno di noi non solamente le donne ma anche gli uomini possono portare un modo femminile di conoscere nel senso che ciascuno di noi non è un'identità unica non è catturato da un'unica identità ma abbiamo questa moltiplicità di identità non lo so io sono donna sono bianca sono italiana non lo so ognuno di noi ha una moltiplicità di identità si parla di intersezione tra tutte queste identità e e quindi nel momento in cui ci approfiamo a guardare quali sono i modi specifici specifici del femminile dobbiamo sempre ricordarci che questo va fatto all'interno di un contesto intersezionale in cui teniamo conto appunto della moltiplicità delle identità che noi abitiamo però forse ancora più interessante è andare a guardare cosa significhi fare scienza da femminista e di nuovo anche in questo caso non è questione di essere uomini o donne appartenere a uno specifico genere si tratta di mettere in pratica una serie di pratiche quindi fare scienza da femministi significa fare scienza integrando l'analisi di genere politicamente impegnata in tutti gli aspetti della scienza nelle sue istituzioni teorie pratiche priorità e politiche fare scienza da femminista significa modificare la retorica del movimento delle donne in ipotesi stabili da usare nella scienza le femministe quindi impiegano l'intera gamma di metodi intuizioni e scintille creative a loro disposizione come scienziate e come femministe trovare prove in laboratorio o sul campo può essere fatto con metodi di ricerca consolidati ma con nuovi fini nuove domande su vecchi presupposti spesso portano allo sviluppo di nuove tecniche e migliorano il disegno generale della ricerca la pratica generale della ricerca nell'ambito della critica femminista alla scienza nell'ambito della filosofia della scienza da un punto di vista femminista c'è stato a partire dalla fine degli anni 70 soprattutto negli anni 80 negli anni 90 una grandissima discussione su cosa significa fare scienza in modo femminista allora voglio proporvi una lunga lista che cattura alcune delle risposte che queste filosofi femministe queste scienziate femministe hanno dato una scienza femminista implica una democratizzazione della ricerca implica il discutere quali siano le priorità della ricerca una scienza femminista vuole eliminare la ricerca che porta allo sfruttamento della natura e di altri esseri umani una scienza femminista vuole usare dati che siano un campione rappresentativo per esempio non fare analisi solamente su campioni che sono uomini ma includere anche donne o viceversa o addirittura nel laboratorio usare cavie che non siano solamente maschi ma che siano anche femmini essere consapevoli del rischio delle estrapolazioni da un contesto ad un altro riconoscere i nostri valori e le nostre convinzioni e ricordarsi come questi possano influenzare le questioni che ci poniamo nel fare scienza una scienza femminista resiste a spiegazioni spogliate del contesto sociale politico in cui sono state date la scienza femminista chiede di essere responsabili nel linguaggio che utilizziamo per esempio nelle metafore che utilizziamo per per comunicare la nostra scienza una scienza femminista mette in discussione cosa conta come scienza quindi parlavamo prima della scienza ginocentrica e di ampliare quello che intendiamo come scienza scienza femminista ci chiede di ripensare continuamente i nostri modelli teorici e rielaborare e rimodellare gli strumenti della ricerca al variare delle circostanze la scienza femminista ci ci invita a considerare la dimensione dell'organizzazione istituzionale della ricerca e a comprendere quali siano le dinamiche di genere nei contesti della ricerca questa è una lista lunga e ci sarebbe da discutere su ognuna di queste proposizioni però credo che possiamo essere d'accordo sul fatto che ciascuna di queste proposizioni in qualche modo tende a rendere la ricerca migliore renderla migliore nel suo nelle modalità con cui la ricerca viene fatta renderla migliore nel senso di essere più democratica più inclusiva più aperta a diverse a individui di diversa provenienza che partecipino alla ricerca e possano parteciparci pienamente a pieno titolo portando conoscenze diverse portando saperi diversi però di nuovo voglio fare il punto che non è solamente una questione di equità è soprattutto secondo le filosofie femministe della scienza una questione di qualità la filosofia della scienza femminista si contrappone a una visione della scienza che è a prospettica in inglese si dice a vision a view from nowhere c'è l'idea nella filosofia della della scienza ottocentesca che cercare l'oggettività significhi astrarsi completamente dall'oggetto della nostra ricerca e rendere i risultati della nostra ricerca completamente dipendenti dalla prospettiva dall'osservatore rispetto al quale i risultati sono ottenuti le filosofie femministe della scienza in qualche modo mettono in luce come questo non sia mai possibile non sia mai possibile non sia mai completamente realizzato se questo non è possibile allora una migliore oggettività viene non tanto dal nascondere la prospettiva da cui ci si muove ma viceversa mettendola in fronte dichiarandola all'inizio e moltiplicando le prospettive permettendo tante prospettive diverse tanti modi di investigare lo stesso problema usando metodi diversi usando standpoints diversi ed è da questo mosaico di prospettive che viene una visione migliore una visione più completa del fenomeno scientifico del fenomeno che noi vogliamo comprendere scientificamente filosofi come Sandra Harding o Ellen Longhino hanno elaborato sull'idea di oggettività forte cioè non dobbiamo pensare al fatto che esistano prospettive come qualcosa che rende l'oggettività più debole ma viceversa dobbiamo renderci conto che è proprio nel momento in cui mettiamo insieme prospettive diverse che sono sempre tra loro in comunicazione che possiamo creare appunto una visione migliore di un certo fenomeno e possiamo dare una migliore e possiamo creare migliori teorie scientifiche su questo è vero questo ci sono questi queste idee vengono dalla storia delle donne dall'esperienza in scienze diverse nelle quali la presenza delle donne ha superato una certa massa critica diciamo e in queste scienze effettivamente data la presenza delle donne c'è stato spesso un cambiamento radicale ci sono state nuove direzioni di ricerca che si sono aperte credo che sia abbastanza facile comprendere come questo sia possibile per esempio nell'ambito della biologia e della medicina fatemi partire da qui ovviamente lo studio del corpo umano in particolare del corpo della donna è sempre stato inficiato da una prospettiva maschile da un'investigazione fatta da una prospettiva maschile che spesso cercava di giustificare lo stato di cose presenti un certo dato assetto sociale attraverso la biologia attraverso la medicina nel momento in cui più donne si sono sono state coinvolte nello studio del corpo umano o del cervello degli uomini e delle donne tante dei cosiddetti risultati scientifici su questo si sono rivelate semplicemente errate quindi in questo caso c'è un taglio molto netto che dice sul quale tutti possono essere d'accordo sulla base dei metodi stessi della scienza del fatto che grazie all'entrata delle donne grazie all'inclusione delle donne nella ricerca e anche grazie all'inclusione delle donne come soggetto stesso di ricerca la scienza ha fatto un passo avanti ed è migliorata volevo consigliare questi due libri sull'argomento che ovviamente non ho tempo di sviluppare ulteriormente qui però per esempio questo libro Inferior di Angela Seini è un ottimo sommario della scienza antica e recente sulla questione e su tutti su tutti il su tutti gli errori che sono stati fatti in passato tutti i bias che sono stati introdotti appunto nello studio del corpo umano a causa dei pregiudizi verso le donne un altro aspetto legato alla biologia e alla medicina può essere discusso a partire dal lavoro per esempio di Barbara McClintock che è un premio Nobel per la medicina Evelyn Fox Keller una fisica che per prima ha cominciato a occuparsi appunto delle questioni di genere nella scienza ha usato Barbara McClintock come un esempio di come le idee sull'oggettività come porsi al di là dell'oggetto stesso della nostra della ricerca e prendere questa view from nowhere questa questa posizione senza prospettiva non sia effettivamente l'unica l'unico modo possibile per fare buona scienza perché Barbara McClintock parte invece dall'empatia e dalla passione verso gli organismi che lei stessa studia e parla di un'umiltà verso l'oggetto della sua ricerca che bisogna lasciar parlare in qualche modo bisogna bisogna secondo Barbara McClintock approcciarsi agli organismi che si sta studiando con umiltà e ascoltarli ed è questo appunto questo aspetto di empatia e di relazione di passione che è quello che poi ha permesso a Barbara McClintock di fare le scoperte che ha fatto per la quale è stata anche riconosciuta biologia e medicina sono esempi di come le cose sono cambiate con l'avvento delle donne nella ricerca anche se alla fine dei conti come dicevamo prima semplicemente avere più donne nella scienza non è sufficiente per far cambiare la scienza stessa i cambiamenti possono essere estremamente lenti e richiedono spesso l'intervento non solamente degli scienziati ma anche della politica e della società civile nel caso per esempio del sistema sanitario americano è stato solamente negli anni 90 quindi stiamo parlando di 30 anni fa poco più che sono state introdotte pratiche inclusive per le quali veniva richiesto di includere le donne appunto nelle sperimentazioni cliniche e venivano introdotti nuovi regolamenti per la salute della donna quali per esempio l'istituzione delle mammografie della possibilità dell'accesso alle mammografie in questo caso non si tratta di un esempio in cui siano coinvolte nuove tecniche o il fatto che ci fossero più donne medico è stato il cambio nella società il fatto che ci fossero state appunto negli anni 70 80 tutte le lotte femministe che ha fatto cambiare il modo di fare scienza e questo è stato implementato appunto nelle pratiche e nelle leggi altri esempi vengono dalla primatologia credo che personaggi anche grazie a dei film famosi personaggi come Jane Goddall Diane Fossey e Birte Galdicas sono diventate conosciute a tutti e queste donne hanno completamente cambiato l'approccio alla primatologia a partire dal per esempio con Linda Fedigan la critica all'idea della scimmia assassina e del fatto di pensare a tutti i diversi primati sulla base dei comportamenti dei babbuini il fatto di cominciare a studiare i comportamenti delle femmine all'interno dei branchi di primati per esempio mettendo in evidenza il fatto che c'era competizione anche tra le femmine non solamente tra i maschi viceversa Jane Lancaster ha messo anche Jane Lancaster ha messo in evidenza le similitudini tra maschi e femmine nei branchi di primati e soprattutto appunto l'idea di poter studiare i primati dal punto di vista delle scimmie femmine un altro esempio viene dalla paleoantropologia il a seguito appunto del della presenza più massiccia delle donne negli anni settanta sul campo si è sviluppata l'idea della donna raccoglitrice come principale sostentamento dei primi gruppi umani quindi non più solamente gli uomini cacciatori ma le donne al centro dello sviluppo dei primi gruppi umani c'è stata l'idea del cambiamento nel quello che si intende per strumenti lo strumento è un po' il segno del passaggio tra le le prime scimmie antropomorfe e l'uomo vero e proprio però appunto prima si guardavano solamente strumenti che erano legati alla caccia mentre invece Slocum ha introdotto l'idea che ci fossero anche altri strumenti strumenti più propri dell'ambito femminile che dovessero essere considerati una cosa interessante andando a guardare la paleoantropologia che è simile a quello che succede in fisica è il fatto che un po' come in fisica c'è l'idea che andiamo a studiare qualcosa di fondamentale nel caso della paleoantropologia si cercano le origini dell'uomo e c'è un po' questa tendenza a c'è stata in passato sicuramente la tendenza a cercare di giustificare certi assetti culturali e sociali attraverso ciò che si trovava nei reperti paleoantropologici in qualche modo questa ricerca delle origini ha il ruolo emotivo che l'importanza per la società che questo ha ha avuto sicuramente un effetto nella gerarchizzazione gerarchizzazione del della ricerca in questo settore un aspetto un altro aspetto che mi colpisce in cui vedo una somiglianza tra paleoarcheologia archeologia e la fisica nel senso che l'archeologia e la paleoarcheologia sono delle cosiddette big science richiedono investimenti enormi immaginate cosa significhi bloccare un'area scavarla avere degli scienziati sul campo portare scienziati sul campo in altri paesi quindi si tratta di una big science in cui evidentemente gerarchie e potere giocano un ruolo estremamente importante ma mettere questo in evidenza appunto è stato un processo che è stato possibile grazie al fatto della presenza sempre più maggiore delle donne nell'archeologia anche in questo caso possiamo pensare a settori a modi idee con cui le donne hanno contribuito per esempio l'introduzione della ceramica come elemento essenziale nel comprendere le società preistoriche o le società dell'antichità o per esempio l'idea che le donne abbiano avuto un ruolo cruciale per lo sviluppo dell'agricoltura come vedete si connette anche con l'idea che la donna raccoglietrice nell'antichità abbia appunto avuto un ruolo centrale per lo sviluppo dei primi gruppi umani tutti questi sono ok dalla biologia alla medicina all'archeologia eccetera eccetera sono tutti settori in cui in qualche modo possiamo intuire anche con le poche informazioni che vi ho dato come la presenza delle donne abbia potuto cambiare le pratiche e soprattutto cambiare le domande come dicevamo prima non sono tanto i nuovi dati che vengono acquisiti ma proprio il modo diverso di approcciare la materia scientifica e di porsi domande diverse allora la domanda visto che siamo nell'aula magna del dipartimento di fisica è fino a che punto questo è vero quando poi parliamo di fisica per esempio o di scienze dure può succedere la stessa cosa? voglio citarvi qui un articolo di qualche anno fa di Amy Bugg si chiama Piccoli passi verso una fisica femminista è un articolo estremamente interessante che consiglio a chi di voi è più interessato alla didattica perché parla proprio specificatamente di quali tipo di azioni possono essere implementate a livello della didattica però quello che mi interessa qui è citare i seguenti passaggi Amy Bugg dice per i non addetti ai lavori la demografia quindi quante donne ci sono pare essere l'unica provocazione rilevante per le donne in fisica ciò non implica tuttavia che questa questione sia sciocca o mal riposta può darsi che una massa critica debba essere raggiunta prima che il femminismo nel campo della fisica possa maturare e procedere come in altri campi e gli argomenti per includere le donne tendono ad essere basati su preoccupazioni di equità o sulla preoccupazione che le persone con un buon cervello non dovrebbero essere respinte quando potrebbero essere utilizzate al servizio della fisica così com'è le argomentazioni tendono ad esempio a non essere basate su affermazioni empiriste femministe secondo cui solo un gruppo con rappresentati generi diversi può produrre risultati imparziali o che i problemi scelti e i metodi utilizzati devono essere liberati da un pregiudizio occidentale e androcentrico esistente nella scienza nella fisica così com'è continuando su questo varie scienziate e varie filosofie si sono chieste ma fino a che punto questi ragionamenti che vengono sviluppati in diversi prendendo come esempio diversi campi della scienza possono essere sviluppati anche in particolare per la fisica la fisica ha un ruolo un po' particolare nella filosofia della scienza perché è stata utilizzata spesso come modello per la scienza stessa e filosofi come Sandra Harding hanno messo in dubbio il prestigio di cui gode la fisica appunto come modello universale per le scienze ci sono altri aspetti che possono essere discussi che in qualche modo impediscono alle donne di partecipare completamente nella ricerca in fisica quali per esempio i possibili legami con lo sviluppo di armi o con in genere l'apparato militare questo è soprattutto molto vero negli Stati Uniti tuttora la fisica comunque rimane molto spesso una fortezza rispetto a quest'idea che la scienza non sia affetta dai valori che chi fa scienza porta con sé quindi un'idea di neutralità della scienza molto forte alcune pensatrici hanno anche sottolineato una forma di arroganza presente all'interno della fisica o delle scienze dure diciamo un'arroganza che in qualche modo ancora una volta mette da parte le donne e anche infine per quel che riguarda il rapporto tra scienza tra fisica e i suoi fondamenti filosofa come Karen Barad ha messo particolarmente in luce il fatto che un certo stile didattico pedagogico in fisica stia portando a valorizzare più divertimento e responsabilità rispetto a confrontarsi con il significato e la comprensione di quello che si sta studiando quindi ho menzionato tutti questi diversi punti di vista sviluppati da filosofi e scienziati diverse semplicemente per dire che le scienze dure in particolare la fisica non sono immuni da una possibile analisi di genere e quindi anche non sono immuni dal fatto che nel momento in cui più donne entrassero a fare ricerca e appunto creassero una massa critica all'interno della ricerca in fisica forse potremmo vedere effettivamente dei cambiamenti anche proprio nelle domande e nelle pratiche della ricerca stessa però questo è quello che trovate negli articoli e nei libri vorrei collegare tutto questo con una riflessione più generale sulla scienza perché secondo me non è possibile capire come si possa appunto pensare a una fisica femminista o una chimica femminista o una matematica femminista se non ci confrontiamo con cosa voglia dire in generale fare scienza allora prima di voglio parlarvi ancora di fisica ma prima fatemi fare un esempio con la matematica può esistere una matematica femminista la matematica è forse la è sicuramente la la base di tutte le diverse scienze è la pratica più scientifica più astratta di cui con cui possiamo confrontarci però il problema la questione secondo me sta nel fatto di appunto cosa pensiamo che sia la scienza e in particolare cosa pensiamo sia la matematica se pensiamo che la matematica sia andare a scoprire delle leggi che sono astratte che vivono nel mondo delle idee come pensava Platone quindi non sono nemmeno parte della natura sono al dia là della natura e noi in qualche modo andiamo facendo matematica andiamo a contemplarle e poi da queste leggi possiamo derivare tutto ciò che c'è nel mondo beh effettivamente se pensiamo così è un po' difficile pensare che ci possa essere un modo femminista di fare matematica però se invece abbiamo una concezione della matematica in cui fare matematica significa creare nuovi linguaggi creare nuove possibili logiche nuove geometrie nuovi possibili mondi e questo è il modo di fare matematica che io ho incontrato nei dipartimenti di matematica questa è la matematica che io vedo fatta sul campo beh se pensiamo che la matematica sia questo allora sì che c'è spazio per una matematica femminista perché allora la matematica diventa un processo creativo la matematica in qualche modo non è questo mondo astratto da cui poi deriviamo le leggi della natura che vediamo nel mondo ma viceversa noi abbiamo questo linguaggio che è la matematica possiamo svilupparne diverse versioni e poi possiamo applicarlo al mondo ma voglio dire in qualche modo con un'attitudine pragmatica possiamo sviluppare questi diversi linguaggi e poi qualche volta visto che il mondo è molto vario è molto molto vario più vario di quello che non riusciamo a immaginare attraverso questo processo creativo di creare nuove forme di matematica qualche volta effettivamente riusciamo a catturare qualcosa che che corrisponde alla realtà del mondo naturale attorno a noi quindi la matematica come processo creativo e tutti i processi creativi ovviamente sono processi che hanno a che fare con l'immaginario che noi ci portiamo dentro allora sì essere donne essere africani o credere in Dio non crederci non lo so quello che abbiamo mangiato stamattina se stiamo stirando se stiamo giocando a calcio tutte queste cose ce le portiamo dentro di noi e può essere in un qualsiasi di questi momenti a seconda di quello che facciamo durante la giornata che può può arrivare l'ispirazione c'era un famoso matematico che diceva che valutava quanto un problema matematico fosse difficile a seconda di quante docce ci volessero per riuscire a risolverlo un'altra e questo mi ha ricordato la lettura di Agnese Seranis che era il nome di penna di una fisica milanese che diceva lei invece cosa credete che io pensi quando stiro quando stiro penso a quello che è successo in laboratorio e per lei stirare era come una meditazione nella quale liberi il cervello e finalmente arrivavano le risposte le domande che lei si era posta durante la giornata in laboratorio la stessa cosa delle docce dell'altro matematico il punto è la scienza che noi facciamo è prima di tutto questo processo creativo in cui noi ci portiamo dentro tutti noi stessi e allora voglio concludere voglio concludere parlando di fisica pochi minuti per parlare non per dare delle risposte assolute però semplicemente per condividere con voi il mio percorso e io come fisica e come femminista come mi sento in questa doppia identità e cosa porto da una parte e dall'altra qual è il punto di contatto se volete tra queste identità allora l'idea spero di avervi convinto che in qualche modo noi ci portiamo i nostri valori ci portiamo i nostri pregiudizi quando scegliamo le diverse le diverse questioni scientifiche che vogliamo affrontare non sono l'unica a dirlo ho altre colleghe che come me mettono in rilievo come valori che non sono la scienza stessa ma guidino la scienza stessa inclusa la fisica ma ok voglio veramente solo cinque minuti parlare della fisica che faccio e di come sia influenzata dalla filosofia femminista allora io mi occupo di un problema che si chiama la gravità quantistica che è un tentativo di mettere insieme la le teorie fondamentali che abbiamo in fisica che sono da una parte la meccanica quantistica e dall'altra la relatività generale da una parte la teoria che spiega come si comportano come si comporta la materia in particolare nell'infinitamente piccolo dall'altra parte la teoria dello spazio-tempo che è quella che usiamo in particolare quando guardiamo l'universo nell'infinitamente grande queste teorie cercano di vogliamo cercare di metterle assieme e mettere insieme teorie diverse è un terreno nel quale la filosofia diventa fondamentale quello che la filosofia della scienza e la filosofia della fisica fa per noi è proprio quello di andare ad analizzare specificatamente cosa in ciascuna teoria è nella parola inglese dispensable è eliminabile o è centrale faccio un esempio tecnico la varietà della relatività generale è una parte eliminabile della teoria oppure solo un aspetto matematico che noi possiamo usare eccetera eccetera ci sono una serie di esempi tecnici che posso fare però il punto è la filosofia diventa veramente fondamentale nel momento in cui facciamo scienza di frontiera nel momento in cui vogliamo andare al di là del testare le teorie che sono già consolidate vogliamo costruire una teoria per la quale possibilmente non abbiamo ancora dati sperimentali con cui confrontarci quindi l'unica cosa che possiamo fare è guardare la consistenza interna della teoria e questo è proprio quello che la filosofia fa per noi ora sia la meccanica quantistica che la relatività generale sono teorie sconvolgenti che cambiano completamente quello che intendiamo per realtà particolare nel caso della meccanica quantistica notoriamente c'è una questione legata a cosa significa fare una misura oggettiva ciò che è reale è ciò che è misurato però in meccanica quantistica le osservazioni dipendono sempre da un osservatore osservatori diversi possono anche fare misure diverse e questo non è in contraddizione con l'oggettività della misura stessa è semplicemente un fatto della teoria ci sono questo non è un fatto isolato della meccanica quantistica è un fatto generale che secondo me emerge in tutte le teorie fisiche con cui non ci confrontiamo a partire dalla relatività Galilei con la relatività di Einstein e poi anche con la teoria dei campi spazi curvi quello che vediamo è che fondamentalmente la fisica sembra essere relazionale sembra dipendere sempre non semplicemente dall'oggetto che noi stiamo studiando da solo ma in relazione con un osservatore osservato e osservatore stanno insieme in un unico che non può essere separato questo crea ovviamente un problema un problema che molti miei colleghi prendono seriamente e per il quale si sbattono la testa e non trovano soluzione io mi sono confrontata con questo problema e in qualche modo mi sembrava naturale ho sempre trovato naturale il fatto che ci fosse questa relazionalità in fisica che ci fosse questa molteplicità di prospettive e che questo non fosse un problema per l'oggettività perché avere prospettive diverse dichiararle e metterle insieme è la cosa che dobbiamo fare per fare una buona scienza sono chiesto ma da dove viene questa mia idea come mai i miei colleghi tutti questi uomini con cui discuto tutti i giorni perché sì sono anche l'unica donna come mai non vedono questa cosa che per me è così ovvia finalmente mi sono resa conto che questa attitudine che io avevo veniva appunto dall'avere assorbito la lezione delle filosofie femministe e quello che faccio adesso come come scienziata ma anche come come filosofa è proprio quello di cercare di sviluppare di rendere più preciso più precisa questa idea di come le nozioni di oggettività sviluppata da queste filosofie femministe possa effettivamente essere utile per capire meglio la fisica e la fisica contemporanea e magari anche la fisica del futuro quindi nella mia quotidianità io sento e vedo come come queste idee possono effettivamente essere utili possono effettivamente portare non semplicemente ad avere una scienza più equa a fare scienza in modo più inclusivo e equo per tutti ma veramente a fare una scienza migliore con questo voglio chiudere chiudo con i consigli di lettura magari perché tutti mi chiedono sempre a questo punto ma cosa posso leggere in più su queste cose allora questa è una selezione che specifica un po' per i fisici perché i primi due libri sono stati scritti entrambi da delle fisiche Margaret Avertheim e Chanda Perescott-Weinstein uno è un libro vecchio e uno è un libro nuovo in entrambi i casi sono delle fisiche che parlano della loro esperienza e dei problemi di discriminazione che si incontrano nel fare scienza ma anche di come specialmente Chanda parla di come la sua prospettiva essendo una donna essendo una persona di colore essendo anche una persona di cultura ebraica come tutte queste cose diano forma al suo modo di fare scienza vi ho parlato di come di come il femminismo abbia cambiato diversi settori della ricerca scientifica se volete vedere un po' di più nel dettaglio i vari casi c'è sicuramente questo libro di Londra Schimbinger Has Feminism Changed Science se invece volete un po' più di filosofia vera e propria una descrizione dei vari approcci femministi alla scienza in questo libro di Elizabeth Potter e ovviamente non ho avuto tempo di andare a discutere su tutte le varie correnti la versione più pragmatica la versione di standpoint eccetera eccetera c'è tantissimo materiale su questo e poi se veramente volete farvi siete veramente appassionati e volete vedere come una come si possa mettere insieme fisica e filosofia vi consiglio Karen Barad Meet the Universe Halfway Karen Barad nasce come fisica si occupa di interpretazioni della meccanica quantistica però questo libro è un libro di filosofia vero e proprio è un libro in cui Karen Barad usa tutta la sua conoscenza di fisica in questo caso non è la filosofia per fare una scienza migliore in questo caso è usare la fisica per fare una filosofia migliore e secondo me ci riesce sono curiosa se lo leggete fatemi sapere cosa ne pensate voi vi ringrazio per l'attenzione spero che ci sia qualche domanda magari grazie grazie sono domande non è sono Giulia Trevo del Dipartimento di Matematica la domanda che ho è questa quali sono le reazioni in generale quando quando racconti queste cose da parte dei colleghi perché diciamo nella mia esperienza che comunque ho iniziato un po' di tempo a seguire queste cose più che a farle a seguirle vedo che non solo quando parlo non so con familiari amici o con le persone in cui magari mi imbatto così casualmente a parlare di queste cose ma anche con i miei colleghi sono discorsi veramente molto difficili e che generano reazioni spesso spiacevoli va già bene se si riesce ad accettare un discorso di pari opportunità solo in quanto opportunità mentre tutte queste cose che ci hai raccontato sono molto più profonde almeno nella mia esperienza sono veramente poco poco conosciute diffuse e comprese chiedo a te qual è la tua esperienza la mia esperienza è che ho questa estrema fortuna di avere una posizione che è tra matematica e filosofia e nel mondo della filosofia i discorsi e le idee di cui ho parlato sono recepiti al cento per cento cioè nei libri di filosofia della scienza che vengono studiati dagli studenti regolarmente philosophy of science 101 c'è un capitolo di critica femminista alla scienza quindi nel mondo oppure per esempio al convegno di filosofia della scienza il grande convegno annuale che viene organizzato ogni anno dalla società di filosofia della scienza c'è sempre una una sessione che si occupa di filosofie femministe value theory cioè come i valori abbiano un ruolo appunto nel modellare della scienza eccetera eccetera quindi nell'ambito della filosofia della scienza queste cose sono estremamente ben recepite e il problema è che ovviamente quando uno fa scienza non è per forza anche un filosofo della scienza e quindi la cosa che mi viene da dire è semplicemente ma sarebbe bello che vabbè ormai per i vecchi c'è poco da fare però almeno che le nuove generazioni puntiamoci giovani io sono sicura che agli studenti farebbe piacere avere magari almeno un corso di filosofia della scienza come parte del loro percorso nell'università di Neemeghen dove ho insegnato ho lavorato per cinque anni era obbligatorio per ogni studente di scienza di avere almeno un corso di filosofia poteva essere per esempio un corso di etica però era chiaro che l'insegnamento dovesse essere completo e dovesse anche includere una parte di filosofia quindi secondo me sì capisco che che coi colleghi è difficile parlare di filosofia è difficile parlare di 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 questioni di genere che riguardano le donne se loro stessi loro stesse non sono donne è difficile parlare di razzismo con qualcuno che non ha mai sperimentato il razzismo è difficile parlare di disuguaglianze economiche con qualcuno che non ha mai avuto problemi di denaro eccetera 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 ognuno di noi quello che io credo è che come donna e come femminista ho ho fatto delle esperienze che mi hanno formato e che mi hanno aperto gli occhi su su dei fenomeni e spero che questi occhi poi rimangano aperti appunto quando si tratta anche di guardare appunto altri tipi di problemi che possono riguardare non direttamente la mia esperienza ma come dicevo appunto disuguaglianze che hanno a che fare con il razzismo con con l'omofobia con 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 l'islamofobia eccetera 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 per cui coi vecchi colleghi non so cosa farci ma puntiamo sui giovani non solo i vecchi non solo i vecchi sono discorsi difficili e molto poco conosciuti anche negli aspetti più pratici faccio proprio questo esempio sono uscita dal mio studio per venire qui ho incontrato un collega in corridoio e gli ho detto che stavo venendo a questa conferenza e mi è capitato ha strabuzzato gli occhi come per dire ma di che cosa stiamo parlando e gli ho dovuto fare il classico esempio che fosse dovuto proprio alla Schibinger il fatto che sia stato corretto il fatto che sull'app della salute dell'iPhone non ci fosse la possibilità di inserire i dati del ciclo per esempio e praticamente è rimasto stupefatto da questa cosa che c'è da pochissimo tempo e grazie al lavoro di persone che sono attente a questi aspetti quindi sono anche cose molto poco conosciute anche negli aspetti sulla sperimentazione sui maschi dei farmaci e tutto il resto sono veramente poco conosciute quindi i nostri colleghi anche quelli più giovani spesso non sanno queste cose e quindi non comprendono l'impatto della presenza femminile nella scienza in tutti i settori io sono diversi anni adesso che tengo un corso proprio su donne in scienza nella mia università e i miei studenti non sono tutti donne anzi sono per metà uomini però sia donne che uomini entrambi rimangono sconvolti quando mostro i dati e una delle prime cose che faccio è mostrare un documentario nel quale si parla dell'esperienza diretta di alcune donne che hanno avuto per esempio molestie sessuali sul bago di lavoro hanno avuto discriminazioni a causa del genere eccetera eccetera e tutti rimangono sconvolti vedendo qual è l'entità del problema nessuno ha veramente fino in fondo la percezione dell'entità del problema e anche le nuove generazioni di ragazze che secondo me hanno una grande consapevolezza in realtà più di quanto potesse essercene in altre generazioni comunque non hanno idea dell'entità l'unica cosa da fare è creare delle occasioni di discussione e la cosa importante è creare veramente il contatto diretto io lo faccio appunto nel mio corso mostrando un documentario perché allora si crea una relazione empatica con le persone e con la loro storia però il punto è incoraggiare tutti quanti a parlare a parlarsi l'un l'altro e a conoscersi ecco se vai io sono Silvana Badaloni grandissima Silvana che è stata collega con me nel comitato per le opportunità e ha portato avanti tantissime iniziative nell'università di Padova abbiamo lavorato insieme molti anni fa e adesso è molto bello sentirti e sentirti anche in quest'aula che io frequentavo perché sono lavorata in fisica negli anni 70 e sentire quello che hai detto perché come sempre sei ricca e profonda nelle tue riflessioni e nelle tue proposizioni vengo alla Schibinger perché anch'io amo la Schibinger la vedo citata però ecco diciamo che la Schibinger parla di innovazione di genere e dice che appunto l'approccio a Women in Science è fixed knowledge cioè vuol dire introdurre la dimensione di genere nei contenuti della scienza in tutti i campi del sapere vi consiglio di andare a vedere il sito della Schibinger la Stanford University dove sono analizzate e riportate tutti i case studies che loro hanno portato lei su gruppo e poi via via tutti quanti la Schibinger è venuta a Padova l'avevamo invitata nel 2018 con la con la Oboe e tuttora produce cose molto interessanti però questo tipo di approccio che appunto porta a pensare come dire l'hai detto anche tu a riformulare le domande nei vari settori della scienza comprese le scienze dure ovviamente ecco questo è importante cioè forse parlare usare la keyword gender innovation invece che fisica femminista può forse portare a meno perplessità in un contesto che non è così evoluto dal punto di vista culturale forse questo è un suggerimento aspetta un attimo che ti racconto io allora adesso insegno ho sempre insegnato fino a due anni tre anni fa intelligenza artificiale adesso insegno un corso di etica dell'intelligenza artificiale perché allora ci siamo posti il problema rispetto agli algoritmi di intelligenza artificiale se appunto questi algoritmi sono corretti dal punto di vista di genere e non lo sono perché come molti sanno gli algoritmi machine learning catturano i bias di genere etnici e quant'altro ma insomma di genere ed è questo il punto che in tutti i rami in tutti i settori disciplinari bisognerebbe riformulare la scienza poi magari nell'ambito della fisica teorica il discorso è un pochino più complicato ma l'hai affrontato tu in qualche modo ecco e questo è il punto è l'approccio proprio fondamentale che sta alla base diciamo di una scienza completamente diversa che va rifondata tenendo conto di tutti questi aspetti riformulando le domande non aggiungendo utilizzando quello che viene chiamato il pink in mitos cioè mettiamoci un po' di rosso o di rosa perché ci sono anche le donne ecco grazie comunque grazie hai fatto un bellissimo intervento grazie Silvana ovviamente sono completamente d'accordo con te ovviamente ovviamente sono completamente d'accordo con te che il punto cioè la cosa interessante è cambiare la scienza partendo dalle domande stesse che affrontiamo però se mi permetti la questione la questione della fisica femminista è usare il termine femminista ogni anno con quei miei studenti dedichiamo un'intera lezione a questo ma usare questa parola è così impregnata richiama un sacco di idee anche spesso sbagliate dobbiamo continuare ad usarla oppure no io sono dell'idea che sì nel senso che cosa dobbiamo fare se un politico usa la parola libertà per delle politiche che sono reazionarie cosa facciamo non parliamo più di libertà cioè la libertà è ancora un valore in cui io credo e il femminismo per me è ancora un valore è l'idea appunto di rendere visibili di dare spazio uguale alle donne nella nostra società c'è anche questo fatto di cui parlavo prima il fatto che spesso quando poi le cose vengono sviluppate le idee vengono sviluppate e viene riconosciuto da tutti che una certa pratica è positiva corrisponda del fare una buona scienza il label femminista viene viene messo da parte no però appunto per me è importante tenerlo perché è la mia storia e perché credo che è importante appunto anche per le nuove generazioni e per tutti quanti sapere che c'è da dove vengono le idee qual è la storia delle idee e cosa e qual è stato il loro ruolo per avere poi la scienza che adesso che ci piace di più la scienza su cui siamo d'accordo che è quella buona facciamo però che dobbiamo uscire qua tra poco perché chiude il dipartimento quindi si capisce un po' sono veloce non so se posso fare la domanda in italiano quindi la faccio in inglese se non è problema se vuoi ripeto ok thank you um because you you said the specific example of you understanding a diverse objectivity that the observer is very important and your co-workers not understanding it that well just because of your background because you've had a background in feminism in feminist epistemology so you can understand an objectivity that isn't separate from the observer in that case maybe you can't answer because it didn't happen but how did you manage to make your co-workers understand in the sense like how can you make someone that hasn't lived through a different way of observing reality understand that how in your particular case how did you do it how did you try to explain ok la domanda è ho fatto prima l'esempio di come per me l'intuizione del fatto che ci possa essere un'oggettività che dipende dall'osservatore sia qualcosa di evidente data il mio percorso femminista ma come posso far capire questa stessa cosa a chi lavora con me e non ha il mio stesso background penso che farsi capire sviluppando un'idea proprio perché credo che poi questa idea sia quella giusta sia possibile cioè possiamo posso spiegare quali sono quali sono i le ipotesi che sto facendo quali sono quali sono i vincoli che sto mettendo e cosa deriva da queste ipotesi da questi vincoli per avere il risultato che voglio con una normale argomentazione di tipo filosofico però il problema è che noi vinciamo i nostri avversari intellettuali non in modo come si dice analitico razionale ma in modo emozionale quindi la realtà è che per convincere qualcun altro che non ha avuto la mia stessa esperienza non viene dal mio stesso background la cosa che posso fare è cercare di connettere con la sua esperienza e cercare di fare degli esempi che connettono con la sua esperienza e una volta che ho creato questa connessione allora anche lui o anche lei anche loro possono avere quel aha adesso ho capito mi fa venire in mente una cosa importante visto che siete sei interessata alla didattica è sempre importante appunto questa connessione emozionale perché questo passaggio di conoscenza non è mai semplicemente una conoscenza di tipo razionale i processi cognitivi che portano a capire qualcosa sono diversi per tutti quanti però quello che fa la differenza è appunto trovare una connessione e questa connessione appunto va ricercata nei background diversi delle persone quando parlavo prima per esempio di cercare di decolonizzare la scienza decolonizzare la fisica soprattutto nel cercare di trasmettere un'idea e farlo connettendosi con l'immaginario delle persone con cui vogliamo a cui vogliamo insegnare ho costretto un po' a chiudere perché altrimenti rimaniamo bloccati dentro ringraziamo di nuovo appunto Francesca di questo un prospetto all'inforzato all'inforzato